Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dover vivere per mesi nella casa del grande fratello non è un'esperienza facile. Jessica Morlacchi e Julia Bruschi non si sopportano e ieri sera è scoppiata una nuova lite. Le due concorrenti non riescono a trovare un punto d'incontro e ogni piccola cosa scatena una discussione. Jessica ha accusato Julia di essere provocatoria, ma quest'ultima ha risposto di essere educata e di non abbassare lo sguardo nemmeno di fronte a suo padre. Anche le Nonè e la Rai hanno cercato di placare gli animi, ma senza successo. Alcuni pensano che il motivo della rivalità tra Jessica e Julia sia legato al concorrente Luca Giglioli, ma entrambe hanno smentito. La verità è ancora da scoprire. Per saperne di più, continuate a seguire il grande fratello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.